Grazie a tutti. 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 Dopo il vertice dei paesi europei a Bruxelles ha aperto molto positiva, oltre l'1,50%, segno di un ottimismo che è ritornato sui mercati e oltretutto abbiamo visto un restringimento dello spread tra Bund tedesco e il BTP italiano, segno che anche in questo caso il rischio sul paese Italia si sta riducendo. Come mercati? Grazie a tutti. In primis il fatto che un minor rischio che il mercato prezza soprattutto sull'obbligazione all'italiano porta anche in termini economici di bilancio effetti positivi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.